Gentili web spettatori di Unica Channel, benvenuti al CAM, il Contemporary Art Museum di Casoria. È Giuseppe De Silva che vi parla e che vi saluta in attesa dell'arrivo di Roberto Saviano. Allo scrittore campano, infatti, il CAM ha dedicato una sala permanente. L'idea di questa iniziativa è di Antonio Manfredi, il direttore del CAM. Antonio Manfredi è l'artista casoriano, appunto, direttore del CAM, che non è nuovo ad iniziative straordinarie e provocatorie, sempre nel nome dell'arte coniugata con l'impegno civile. Ma vediamo come si svolgerà la serata. L'arrivo di Saviano è previsto intorno alle 18. C'è già un grande spiegamento di forze, ovviamente, sapete che Saviano vive sotto scorta. Saviano arriverà al museo, visiterà la sala permanente a lui dedicata, poi riceverà un premio, il premio CAM-HON, ideato da Antonio Manfredi, che è alla sua prima edizione. Il premio CAM-HON sarà assegnato di anno in anno a personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, del sociale, che si siano particolarmente distinti nella loro attività. La manifestazione di stasera prevede anche un doppio momento artistico, il primo dal titolo La Consegna a cura di Laura Niola, il secondo con Stella Manfredi, figlia di Antonio Manfredi, al violino elettrico, in una composizione musicale dedicata a Gelsomina Verde. Intanto Roberto Saviano è arrivato da un'entrata laterale, mentre all'esterno comincia ad affluire gente. Noi, con la troupe di Unica Channel, 16 Noni, siamo stati autorizzati ad entrare prima per preparare la diretta e realizzare immagini esclusive dell'evento, in quanto partner proprio con il CAM dell'evento stesso. Insomma, una sorta di TV ufficiale di questo incontro di Roberto Saviano con il CAM e con Casoria. Allora, ecco Roberto Saviano che si sottopone alle interviste di Rito, in questo caso con il TGR, la testata giornalistica regionale della Campania. Ed ora Roberto comincia il giro della sala lui dedicata, una mostra che sarà permanente. Sono 13 gli artisti campani che hanno detto di sì ad Antonio Manfredi quando l'artista Casoriano ha proposto loro questa iniziativa. È giusto, mentre Roberto Saviano continua nel suo giro nella sala del CAM, citarli tutti. Lello Lopez, Sergio Fermariello, Luciano Ferrara, Giuseppe Di Guida, Sebastiano Deva, Giorgio Scotti, Monica Biancardi, Giuseppe De Marco, Walter Picardi, Mario Laporta, Michele Attianese, Fulvio Di Napoli, Oreste Pipolo. Era giusto ricordarli tutti. Con le telecamere guidate dal nostro regista Ettore Terribile Chianese vediamo in anteprima le opere dedicate a Roberto Saviano. Ecco, Saviano ha terminato il suo giro, ha visitato tutto il museo, non solo la sala a lui dedicata. Ed ora Antonio Manfredi dirà due parole per ringraziare lo scrittore, che è oggi in libreria con il suo nuovo libro, L'apparanza dei bambini. Antonio Manfredi consegna a Saviano il premio Camon, una scultura realizzata da Luciano Campitelli. Intanto, come potete vedere, il Museo Cam, il Contemporary Art Museum di Casoria, si è riempito di persone, attratte dal richiamo di Saviano, ma anche dalla poliedrica personalità di Antonio Manfredi, che sa sempre trovare momenti di arte e di aggregazione tali da richiamare il pubblico. Ma mi sembra doveroso dire due parole per ricordare anche chi è Antonio Manfredi, il direttore del Cam, nato a Casoria nel 1961, pittore, scultore, fotografo, direttore artistico del Museo d'Arte Contemporanea Cam di Casoria. Ha esposto le sue opere nelle più importanti città del mondo, in più di 300 mostre. Le sue opere monumentali, anche in marmo, in ferro, in legno, sono presenti in Cina, in Corea, in Giappone, in Egitto, in Europa, in Russia, in Stati Uniti, insomma, in tutto il mondo. E addirittura nel 2007 è stato scelto dal Ministero Italiano degli Affari Esteri per realizzare una scultura che commemorasse le vittime italiane, degli italiano-americani, della strage delle Torri Gemelle a New York. Nel 2004 ha fondato e gestisce appunto il Cam, è stato sempre autore di iniziative particolarmente interessanti e provocatorie. Ricordiamo che nel 2011, ad esempio, chiese a Siro alla Germania per tutelare le proprie opere, visto che, insomma, qui nell'area nord di Napoli c'era una certa mancanza di attenzione per l'arte. A settembre dello stesso anno, però, arrivò Vittorio Sgarbi per la Biennale di Venezia ed ora una prima performance a cura dell'artista Laura Niola dal titolo La Consegna. Apprezzata dal pubblico la performance di Laura Niola e dei suoi attori figuranti. Ed ecco la seconda performance a cura di Stella Manfredi, la figlia di Antonio, che si esibisce al violino elettrico. Si tratta di una composizione dedicata a Gersomina Verdi. Allora, siamo in chiusura. Abbiamo avuto modo di scambiare due parole con Saviano, un saluto veloce per dirgli della nostra diretta. Abbiamo offerto agli spettatori del web un momento importante, crediamo, di aggregazione, di testimonianza civile, nello spirito di servizio che contraddistingue la nostra emittente web. Devo ringraziare i tecnici di Unica Channel 16 Noni, i capitanati dal regista Ettore Terribile Gliarese e da Antonio Ziccardi, il nostro direttore di rite. Un ringraziamento va anche a tutto lo staff del CAM che ci ha supportato in questa diretta. Grazie a tutti per l'attenzione. Un saluto da Giuseppe De Silva.